Vi anticipo che questo è lo strumento più versatile di tutti quelli che vi farò vedere oggi. È una chitarra bellissima, Telecaster. Questa in particolare ha molte sonorità in più. Ragazzi, bentornati nel mio salotto. Oggi rispondo a una delle domande che più mi fate in assoluto. Ale, che chitarra mi devo comprare con 1000€? Insomma, vedete voi, vi dico io, dipende da cosa suonate, da cosa vi piace. Se volete un suono un pochino più caldo, doverete scegliere magari una semiacustica, come l'Ibanez che c'è qua dietro. Se volete una chitarra un pochino più vintage, ma con i single coil e magari qualche sonorità un po' particolare, c'è questa Fender Player Plus Nashville, che è molto particolare, è una Telecaster con un pick-up in più al centro. Se invece, questa la mettiamo al suo posto, volete una chitarra tuttofare, c'è la Pory Smith che vedete qua, la Custom 2408, versione SE dall'Indonesia, quindi una chitarra veramente molto bella, ma appunto intorno ai 1000€. In ultimo, se volete una chitarra più metallara, rock, più moderna, c'è una bellissima Cort che vi aspetta qua. Insomma, queste sono le quattro chitarre, i quattro mondi di cui andiamo a parlare in questo video. Come sempre, grazie mille a strumentemusicali.net che mi manda tante cose belle. Trovate tutto il linkato in descrizione. Sigla, mentre c'è la sigla, voi mi raccomando, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Allora, sono quattro chitarre che descrivono mondi differenti, che hanno, secondo me, poi un chitarrista di riferimento differente, perché sono molto molto differenti tra di loro. Quindi, quello che andiamo a fare è iniziare dalla Telecaster. Questa è una Telecaster Player Plus Nashville, che è un modello molto strano, molto particolare, perché ha tante sonorità, grazie a un push-pull, i tanti pick-up rispetto alla tele normale, altre pick-up invece di due, e questa dell'elettronica un po' strana, un po' particolare, sarà una cosa che ci porteremo dietro lungo tutto questo video, perché sono tutte chitarre con tante possibilità da questo punto di vista, l'ho scelta anche un po' apposta. Alla fine del video vi do la mia personalissima classifica, insomma, quale vi consiglio di più tra queste quattro e perché? Ma iniziamo con il test della prima, appunto, che è la Fender Player Plus Telecaster Nashville. Sono voluto partire da un sound bello rocchettaro e avete sentito prima il pick-up al manico e poi il ponte, insomma, le due sonorità regine per quanto riguarda la Telecaster. Questa in particolare ha molte sonorità in più, proprio in virtù del fatto che ha un pick-up in più, quindi, insomma, sono proprio tante. In particolare potete ottenere dei suoni più simili a quelli di una strato. Tiro un po' giù il gain e faccio una cosa un po', un po' stile Hendrix per intenderci, con il pick-up al manico e quello al centro. Sentite? Sembra un po' una strato, si va un po' in quella direzione, no? C'è proprio questo twang molto accentuato, è un suono completamente diverso da quello tipico della Tele, che è quello di manico più ponte, che possiamo ottenere semplicemente tirando in su qua, mettendo la quarta posizione, e in questo caso abbiamo appunto manico più ponte. Se questo è abbassato, invece, questo opera come un normalissimo selettore da strato, quindi, insomma, le posizioni sono manico, manico più centro, centro, centro più ponte e ponte. In questo caso, però, pam, andiamo a usare proprio la posizione più tipica in assoluto della Tele, quindi manico più ponte. Sentirete che non guarda il vintage, per quel tipo di sonorità vi consiglio le Vintera, stanno in questa fascia di prezzo, ma è una sonorità comunque un pochino più precisa e moderna, ma interessante. Sentito? È quel tipo di sound lì, ovviamente molto più moderno, un pochino più rivisto rispetto a quello che è il sound che potete magari ottenere da una Vintera, ma molto interessante. Insomma, se volete una chitarra con i single coil, non la solita Telecaster, insomma, se la volete la solita Telecaster, ce la Vintera, però con un pochino di sonorità in più, magari non avete una Fender in casa, con questa vi portate a casa una bella quantità di suoni Fender all'interno di una chitarra, comunque, con un suo carattere particolare, che poi è la cosa che a me interessa maggiormente. Passo adesso al secondo strumento, perché questo è un pochino più tagliente, un pochino più rock Fender style, che vedevo di, insomma, single coil sono. Ci andiamo a prendere invece questa chitarra qua, quindi la Ibanez, che è molto più tonda e ha completamente un'altra sonorità, anche se anche lei può graffiare un bel po'. La produzione di questa AS-153, anche questa è linkata in descrizione, è indonesiana, ma dall'Indonesia, ragazzi, stanno uscendo degli strumenti pazzeschi. Sia questa Ibanez, che la Pori Smith che c'è là dietro, arrivano dall'Indonesia, la produzione indonesiana ormai è altissima a livello qualitativo. Non so esattamente perché, ma è veramente, veramente alta. Io vi dico che questa roba qua, mi dicessi che l'avevano fatta in Giappone, ti potrei dire, ok, guardate anche che bello il legno qua sul battipenna, cioè è veramente una chitarra bellissima. Sono molto belli anche i potenziometri solidi, cioè fatta molto bene. La particolaretà più grande, ve lo dico fin d'ora, è questo switch, che nel momento in cui state utilizzando il pick-up al manico, ve lo fa suonare come unbucker, come single coil, oppure come, con le due bobine che vanno a comporre l'unbucker in parallelo. In sostanza sono i tre suoni diversi che potete ottenere appunto da questo pick-up. Di nuovo torna il discorso di cercare un'elettronica che va un po' più in là rispetto a quella classica e canonica. Partiamo da un clean questa volta e dopo poi però vi faccio anche sentire il pick-up al ponte bello rocchettaro perché per fare roba dei Foo Fighters, insomma, gli Oasis, eccetera, spacca. Però partiamo dal manico un pochino più, per quanto mi è possibile, non del mio genere, ma un pochino più jazz. Cioè jazz, vabbè, adesso lo ascoltate, vedete, non è jazz, però avete capito. Ora ci spostiamo in modalità single coil e sentite quanto cambia il suono. Vado ancora in su e ottengo una sonorità che è a cavallo tra queste due. La prima era cicciona, la seconda un po' più sottile da single coil, la terza è un po' le a metà. Quindi, sempre pick-up al manico, bobina in parallelo. Ma io sono un rocchettaro, voi siete dei rocchettari e insomma, proviamola con un po' di distorsione. Sempre pick-up al manico, però con la distorsione e versione single coil. Ora pick-up al ponte, anche se questo sta regolando single coil, non single coil e roba, io metto pick-up al ponte, abbiamo il massimo di distorsione, ci possiamo fare i Foo Fighters. Insomma, quando c'è da spingere, direi che ci siamo alla grande. È una chitarra bellissima, è veramente bella. Poi, io ho un debole per tutte quelle che sono le semiacustiche. Questa, devo dirvi che, nella sua fascia di prezzo, secondo me è il Best Buy. Cioè, sono veramente 1000 euro ben spesi, ma i Bannets non sbagliano mai. Nelle rispettive fasce di prezzo, 3, 5, 7, 100, 1000 euro, spacca sempre, sempre il Best Buy, secondo me, o quasi sempre il Best Buy. Ne avevo già avuto modo di parlare di quelle più economiche, sui 300-500 euro, anche lì spaccavano. Ragazzi, chitarrona. Chitarrona molto molto bella. Ora, se vogliamo invece una chitarra un po' più tuttofare, lì dietro potete vedere la Pory Smith SE Castle 24-08. La prendo. Allora, vi anticipo che questo è lo strumento più versatile di tutti quelli che vi farò vedere oggi. È una chitarra veramente molto bella, veramente ben costruita. Guardate che bello anche il top in acero. La costruzione, come tutte le SE, è pazzesca. Ormai, comunque, ragazzi, le chitarre intorno ai 1000 euro hanno raggiunto una qualità altissima. C'è poco da fare. Mi ricordo quando ero giovane io che... Insomma, vi parlo del 2005 che... 2003-2005, insomma, il periodo in cui ho iniziato a suonare era un altro mondo. Cioè, a 1000 euro prendevi, sì, le chitarre belle, ma non erano così belle. È poco da fare. E quelle da 500 euro erano chitarrine o poca roba. Adesso anche a 500 prende dei buonissimi strumenti e anche a 300-400 se stai... se stai... se stai cercare un po'. E soprattutto se guardi i video in cui ti consiglio le chitarre a 300-400 euro che secondo me sono le migliori. Qua siamo su quelle da 1000 e appunto, vi dicevo, 24-08 sta per 24 tasti, 8 posizioni totali grazie a questi, due switch, vedete che tornano sempre il discorso degli switchini aggiuntivi che semplicemente vanno a splittare il pick-up singolarmente. Quindi verso il basso è un backer, verso l'alto diventa single coil, questo fa quello al manico e questo fa quello al ponte. Niente di che dal punto di vista concettuale però apre veramente una sbordata di possibilità. Perché, per esempio, a me che l'humbucker al manico non sempre piace, io probabilmente su questa chitarra lo atterrei quasi sempre con l'humbucker splittato e mi porto dietro questa soluzione sia al centro, quindi un pochino più d'attacco, mentre il ponte rimane bello rocchettaro e mi permette di spingere. Insomma, vi faccio sentire il pick-up al ponte e poi dopo quello al manico però splittato. Quello al ponte che vi faccio sentire adesso è unhumbucker normale. è sicuramente la chitarra più versatile e volendo anche la più cattiva di tutto il lotto di oggi. No, non è vero, c'è la Cort che può essere più cattiva però questa sicuramente ha il rapporto versatilità-cattiveria che è il migliore tra tutti. Qua siamo col pick-up al ponte veramente sparatissimo, veramente tanta distorsione, sentite come le basse frequenze rimangano belle ferme lì, molto a fuoco. Se vado a splittare il pick-up al ponte PAM! Così, ottengo invece una sonorità molto più Fender style, cioè ci posso quasi fare gli Arctic Monkeys. Lui in questo brano in particolare usano la 12 corde e tutto un po', però secondo me è accettabilissimo suonata così con questo piglio che posso dirvi che è quasi da telecaster, cioè io me la vedo bene quasi come una tele questa sonorità. Ci sono queste sonorità appunto lì a metà tra il moderno e il vintage, tra Strato e le Spolle, è una chitarra veramente molto particolare. Se vado a utilizzare la posizione centrale, quindi entrambi i pick-up e in questo momento sono entrambi splittati perché i due pirulini qua sono verso l'alto, ho un suono quasi da posizione centrale di una telecaster di nuovo, quindi è molto interessante. Ora qualcuno mi potrà dire eh ma è un po' più sottile rispetto a una tele... Sì, è un po' più sottile però va un po' in quella direzione. Se con la stessa sonorità tolgo un filione di gain e aggiungo il delay suona ogni 80 bellissimo per gli arpeggi. Insomma, veramente un suonone, è proprio bello bello. Pick-up al manico, in questo caso unbucker style, quindi veramente tanta spinta. Ve lo faccio sentire al volo. Ora andiamo a muovere questo switchino e creiamo un single coil quindi cambierà la sonorità. Questa sonorità è completamente diversa ed è sempre questa chitarra cioè potete andare veramente in ogni direzione per questo ci ho speso probabilmente anche un po' più tempo rispetto alle altre però è veramente uno strumento che mi piace un sacco. ultima ma non meno importante la Cort la prendo e ve la spiego. Eccola qua la Cort XSX700 Duality chitarra UA ragazzi questa me l'ha consigliata Luca Miglieri l'ha provata tempo fa sul suo canale parlando una volta al telefono ho detto devo fare un video sulle migliori chitarre 1000 euro gli ho citato le altre e lui fa no devi prendere per forza questa Cort perché è vero che è particolare esteticamente però suona da paura vale molto di più di quello che costa ed è uno strumento comunque proprio bello da consigliare lo ho provato effettivamente spacca spacca mi fa un po' strano solo per me ripeto per me il manico così piatto perché è veramente molto molto piatto Samur Duncan per quanto riguarda i pick up jazz al manico e JB Jeff Beck jazz blues al ponte ponte mobile tra l'altro ottimo insomma ragazzi uno strumento proprio figo figo andiamo subito sull'iGain grazie a tutti insomma come avete visto mi sono lasciato un po' prendere la mano e ho giocato moltissimo in questo solo tra l'altro vi linko in descrizione spero di ricordarmi stavolta vi linko in descrizione la base che ho usato lo trovate qua su youtube usavo moltissimo il pick up al manico e il pick up al ponte bam 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 un po' da petrucci no tan 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 cambi e cerchi il dal pick up al manico e il gen 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 dal pick up al ponte insomma il pick up al manico è bello morbidino si riescono a fare delle cose anche carine con la pennata alternata e aiuta molto il manico in sé è un'autostrada ragazzi è veramente un'autostrada i suoni sono proprio figli avete ragione Luca non per niente lui è il maestro di questa tipologia di genere insomma tutto quello che è rock metal Luca migliere intendo spacca molto più del sottoscritto quindi insomma abbiate pazienza ho suonato un po' quello che mi veniva ma non è sicuramente proprio il mio genere detto questo chitarrona ce la prendi a tracolla ce la metti addosso fa spaventi ci sono autobloccanti una chitarra Seymour Duncan come vi dicevo prima una chitarra spaziale veramente molto bella veniamo quagliamo arriviamo alla fine so di non avervele fatte ascoltare tutte al millimetro eccetera ma è un po' per darvi un'idea di questi quattro strumenti e un po' soleticarvi rispetto a queste queste sonorità non è un test preciso di tutto perché sennò ci metteremo una vita con quattro strumenti capite bene immagino fatemi sapere innanzitutto nei commenti quale avete preferito questo è molto importante poi vi dico la mia la mia è che secondo me lo strumento allora è molto difficile perché c'è una mia molto personale c'è una mia un po' più oggettiva la mia molto personale è che la migliore per me di tutto il lotto è Libanez eee primo posto in realtà però per me se dovessi dirlo per tutti cioè cercare di fare un qualcosa di un pochino più a 360 gradi direi la Pori Smith perché la SE Custom 24-08 ha veramente una sbalangata di suoni tutti belli però se cercate una sonorità molto particolare secondo me la Libanez con la sua cicciosità semiacustica spacca ragazzi detto questo secondo posto allora facciamo così primo classifica per me primo posto Libanez secondo posto metto metto comunque lei perché mi è piaciuto un botto è una chitarra che mi piacerebbe avere sì metto comunque la Cort terzo posto per Pori Smith ma sono veramente lì quarto posto per la Telecaster ma perché non è il suono di Telecaster che cerco io perché c'è troppa roba detto questo ampliando a cosa consiglio in maniera un po' più generica primo posto assolutamente la Pori Smith lo so che sembra assurdo perché vado avanti ma primo posto Pori Smith se devo parlare a tutti voi non solo al sottoscritto perché è una chitarra con cui si suona veramente la qualunque secondo posto se volete una chitarra moderna sicuramente lei secondo me spacca e metto davanti queste due chitarre perché sono le più se vogliamo versatili e quelle con cui si può suonare più roba terzo posto secondo me per Libanez in senso assoluto ma è ovvio che se cercate una semiacustica vola al primo se no in senso assoluto ovviamente al terzo posto ultimo la Player Plus ma non perché non mi sia piaciuta capiamoci è che tra queste quattro è quella che comunque ha un po' meno si può dire ha un po' meno anima cioè è a metà tra te e l'estrato beh la consiglio se non avete una fenda in casa questo assolutamente se no se avete una delle due vi consiglierei di completare diciamo vi consiglierei di completare con altre sonorità che potete trovare sicuramente nella corte nelle Libane se non la pori smitto questo video probabilmente diventerà lunghissimo spero comunque vi sia piaciuto e niente fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate quale prendereste tra queste quattro iscrivetevi al canale mettete mi piace a tutte quelle robe lì e noi ci vediamo al prossimo video grazie come sempre a strumentimusicali.net che mi mandano una marea di roba e niente ci vediamo la prossima settimana ciao grazie a tutti